Non abbiamo potuto abolire la povertà perché la povertà è un dato di fatto che, come la comunità di Sant'Egidio ha detto qualche giorno fa, coinvolge 5 milioni di italiani. Però, come fanno gli uomini di buona volontà, stiamo cercando di portare il nostro contributo e di fare quanto possibile per attutirne il morso. Perché la povertà morde, la povertà strappa la carne, la povertà uccide i sogni ed uccide il talento, uccide le possibilità umane di dare anche il proprio contributo agli altri. Perché quando si diventa poveri si rischia di diventare anche incapace di dare il proprio contributo alla società. Quindi lottare contro la povertà significa fare la ricchezza di tutti, non solo migliorare la condizione individuale del singolo. Il RED fu il primo ammortizzatore universale italiano. Fu una misura pugliese. Si chiamava reddito di dignità e si chiama ancora così perché nessuna prestazione di sostegno arrivava senza chiedere in cambio una prestazione, anche fosse di volontariato. Poi man mano questo strumento è evoluto, è passato all'assistenza nel periodo in cui esisteva il reddito di cittadinanza, l'assistenza dei caregiver, l'assistenza delle donne che subivano violenze. È stato utilizzato in molti settori. Adesso purtroppo a causa dell'abolizione del reddito di cittadinanza deve riprendere le sue funzioni. Che sono da un lato quella di attutire la situazione di deprivazione di chi non può trovare un lavoro. E temo che anche il reddito di cittadinanza superstite, comunque lo si chiami, non riesca a risolvere questo problema. E dall'altro invece fare politiche attive del lavoro per consentire a chi è disoccupato di trovare una occupazione. Investiremo in questo 45 milioni di euro, voglio dire che non basteranno, lo dico già da adesso, questi 45 milioni partiranno con una tranche da 15. La Regione Puglia è, tra virgolette, creditrice del governo italiano di 4 miliardi e 600 milioni che il Ministro Fitto ancora non ci assegna e che non possiamo utilizzare con danni incalcolabili per tutti i settori economici, imprese, cultura, eccetera, eccetera. Non solo, ieri abbiamo appreso dell'intenzione della cabina di regia del PNRR di mettere le mani anche sui fondi europei negoziando con l'Unione Europea un indirizzo centralizzato della gestione anche dei fondi europei con la scusa del coordinamento della spesa, ma dovete sapere che il RED è sopravvissuto fino ad oggi e anche oggi noi possiamo presentarlo grazie all'autonomia che la Regione Puglia ha avuto nel gestire i fondi europei in un dialogo esclusivo con le istituzioni europee senza l'intermediazione, alle volte ideologica, dei governi nazionali. Questa autonomia delle regioni nei fondi europei è un pilastro fondamentale che purtroppo in queste ore è messo in discussione. Vedremo come evolverà la situazione, ma ieri abbiamo precisato, soprattutto la Puglia e la Campania, abbiamo precisato che non defletteremo sul manutenere l'autonomia delle regioni nella gestione dei fondi europei e naturalmente neanche del Fondo Sociale di Sviluppo e Coesione, ma questa è un'altra partita. Oggi possiamo dire che al funerale del reddito di cittadinanza supplisce la perdurante esistenza del reddito di dignità della Regione Puglia.